La corsa del convegno di Castelluccio dei Sauri è una condizionata per cavalli di quattro anni, vincitori da 3 a 13 mila euro in carriera. Non corre Casper Griff che si sarebbe dovuto avviare con il numero 8. Ne restano così in 13, 7 in prima e 6 in seconda fila. Gioco ancora aperto che vede Corsaro VF, il punto di riferimento per gli scommettitori. Seguiti anche Caronte Thor, Camillo Jack, sorpresa, cuore mio FKS. Luci accese e macchina in movimento. Dallo steccato Corsaro VF, Cicerone Kampf, Caronte Thor, Camelia Gall, Claudia Fegg, Cardine Lewis e Centauro Caff. In seconda fila Camillo Jack, Selly Egral, Caloroso Lewis, cuore mio FKS, Cleo Ors e Cleverfit LF. Macchina che va a accelerare per lasciare i concorrenti qui sotto la nostra postazione. Stacca la macchina Caronte Thor, prova a scavalcare Cicerone Kampf, all'esterno Camelia Gall, lungo i birilli Corsaro VF. Partito bene anche cuore mio FKS nelle prime posizioni. Rimane in terza ruota Claudia Fegg, cavalli al completamento dei 200 metri di gara, che Caronte Thor, sopravanzando Cicerone Kampf, li passa in 16 secchi. Passa Caronte Thor, che sfila su Cicerone Kampf, all'esterno Claudia Fegg, che non ha alternative se non quella di puntare in avanti. E offre quindi la schiena a Camelia Gall e a cuore mio FKS. Lungo i birilli Cicerone Kampf e Corsaro VF. In decelerazione se ne vanno i 600 di gara che Caronte Thor passa in 47.3. Così, gruppo disposto in pariglie, con la sortita in terza ruota da parte di Giorginio con Cardine Lewis. Caronte Thor in avanti, si elimina Cardine Lewis nel tentativo di migliorarsi e così sempre Caronte in avanti. Poi le pariglie composte da Cicerone e Claudia Fegg, Corsaro e Camelia Gall, poi Camillo Jack e cuore mio. 17.3 il primo giro. Caronte Thor ha fatto tutto con estrema calma Crescenzo Maione e il targato Thor, che affrontano gli 800 finali in vantaggio, sempre su Cicerone e Claudia Fegg. 1.33.9 i tre quarti di miglio, non cambia nulla, nessuno fa la prima mossa e Caronte Thor li porta a spasso. Se ne va un altro paletto in 15.2. Camelia Gall si scopre dalla seconda pariglia per aggirare Claudia Fegg, si trascina cuore mio FKS. Caronte Thor in avanti, approda al miglio in 2.4. Camelia Gall prova ad avanzare, si stoppa lì al lato di Cicerone, Caronte Thor amministrato finora ed è in chiaro vantaggio. Cuore mio si scopre in terza ruota e prova ad andare all'arrembaggio del battistrada. Di dentro c'è spazio anche per Corsaro VF, Gall, oppa Cicerone Kampf. Cuore mio di dentro Corsaro, allargo Cuore mio e sul palo giungono in linea all'interno Corsaro e all'esterno Cuore mio che beffano Caronte Thor. 28.8 ad arrivare, 2.32.8 la distanza, la rivediamo con Corsaro VF all'interno e Cuore mio all'esterno. La foto è molto stretta. Al terzo c'è il 3 di Caronte Thor, completano i premiati Camillo Jack al quarto posto e il 14 di Cleverfit al quinto. Sarà il giudice d'arrivo a dover decretare e a dover separare i due giunti simultaneamente sul palo. Per cui 1.12.12.1, al terzo il 3 di Caronte Thor, questo l'arrivo ufficioso della quinta di Castelluccio dei Sauri. Linea alla regia. Grazie. Grazie.